Musica Osvaldo Bevilacqua, maestro in giornalismo, volto noto del piccolo schermo, oggi a Pescara per assaggiare i brodetti di Pescara, Vasto e Giulianova. Come li ha trovati? Sì, interessantissimi perché tutti diversi e la diversità serve perché è stato soprattutto un racconto da parte degli chef che hanno preparato questi piatti, si vede con molta passione, perché dentro ci sono dei radici dei loro antenati, dei loro nonni, bisnonni e stanno portando avanti una tradizione. E anche al di là delle piccole differenziazioni, c'è quello un po' più brodoso, quello un po' più asciutto, va benissimo perché l'essenziale è che si promuova anche nei confronti dei clienti e quindi della gente, di noi tutti, si crea questa coscienza che non si sta mangiando un piatto qualsiasi. Il brodetto qui, come anche in altre regioni, dal nord al sud, ha un suo valore, un valore che ti riporta appunto alle radici. E quindi è un piatto che va gustato, va assaporato in tutte le sue accezioni diverse, in tutte le interpretazioni, sapendo che in quel momento tu stai assaggiando qualcosa che i nostri bisnonni, già alla fine dell'Ottocento, quindi anche ancora indietro, avevano creato, perché qui si vede l'incontro, ed è bello questo, del mare e della terra, del contadino, del pescatore insieme, che hanno concorso a formare un piatto che è la storia dell'Abruzzo o delle altre regioni. E soprattutto l'Abruzzo deve essere orgoglioso di avere tante interpretazioni, perché si vede che è nel loro DNA degli abruzzesi questo. Allora cerchiamo di farlo conoscere sempre di più e soprattutto ci si rivolge a questo piatto con meditazione, cioè devi pensare perché c'è quel pesce invece di un altro, perché c'è quel tipo di condimento anziché un altro. Poi qui c'è la fortuna di avere oli straordinari, d'altro canto siamo nel triangolo dell'olio, quindi dell'oro, e quindi questo è molto importante, perché l'Abruzzo ha mare, promette mare e montagna e mantiene la promessa, che è mare e che è montagna. E poi hai, dammi del tu, e poi hai la fortuna di questo territorio dove c'è tutto, appunto come dicevo, oltre che al mare, ma anche i sapori della terra, il vino, l'olio, il pane, cioè è qualcosa di straordinario. Amici abruzzesi, io ho casa qui in Abruzzo da più di 40 anni. Ho scelto l'Abruzzo, quindi non mi ha scelto l'Abruzzo, adesso invece mi sceglie l'Abruzzo, ma inizialmente l'ho scelto io. E vi invito a rendervi conto, perché voi a parole, l'udite, io ne parlo perché sono amico della vita degli abruzzesi, Allora, si parla sempre dell'orgoglio abruzzese, però poi non vi rendete conto invece di quello che può diventare in termini economici questa vostra predisposizione nei confronti del forestiero, che arriva, che viene apposta qui ad assaggiare queste meraviglie. Se voi siete ancora consapevoli, l'obiettivo sarà raggiunto ancora con molta più facilità e più presto. Ci manca la promozione, però per venire, per tornare al Brodetto, un piatto che ha vergato la storia del territorio. Ma cosa si sente di dire, Osvaldo Bevilacqua, a tutti quei ristoranti invece che hanno cancellato questo piatto dal menù dei loro locali? Va bene, no? Meglio di così. Una risposta eclatante. Ho detto tutto. Dai, sì, adesso lo capiranno anche loro. Cioè, io devo dire, una volta mi sono alzato da Palermo, no recentemente, ma insomma qualche anno fa, un ristorante pure famoso, mi sono messo seduto, ovviamente ho chiesto se avevano il pesce spada. No. Il tonno. No. Ma perché l'avete finito? No, non lo trattiamo. Ma voi state a Palermo come da quanto tempo? Da dieci anni. Noi portiamo avanti la cucina internazionale. Arrivederci. Sullo stabilimento balneare La Playa, per parlare di Brodetti, con i Brodetti di Vasto, di Giulianova e di Pescara, nella commissione speciale degli organizzatori, anche il noto Tino Di Sipio, storico per Antonomasia, non solo in campo enogastronomico, ma anche in campo politico, ma per parlare di Brodetti. Ecco, perché piace così tanto questo piatto? Lei se l'è mai chiesto? Il piatto, questo piatto piace perché ricorda a chi è nato e vissuto al mare, i momenti in cui la sera rientravano le barche e tiravano fuori le scafette. Il giorno dopo già il brodetto non c'era più. Poi c'è questo affetto che è fortissimo perché non lo si trova più nei menù dei ristoranti, tranne prenotarlo, ma prenotarlo vuol dire poi avere la fortuna per quel giorno che il ristoratore abbia potuto trovare tutti i pesci che vanno nel brodetto. La differenza tra i tre è nota, è data dai vegetali che vengono messi nel brodetto e forse il più famoso è il vastese, anche perché è riuscito a brevettarlo, fra virgolette. Quello pescarese che oggi non abbiamo provato, fatto soltanto col feffullone, cioè con il peperone rosso crusco. E poi c'è il brodetto di Giulianova, che è forse il brodetto più vicino al discorso di quello che è le Marche Umbria, tenendo conto che il Mar Adriatico non ha le paratie, quindi il pesce, se Dio vuole, in questa parte d'Abruzzo è sempre quello. Ma il brodetto come ha saputo raccontare la storia del territorio, secondo lei? Per la miseria, perché è un piatto misero. E io ricordo sempre che mio padre diceva che quando era bambino, pizze e fughi era il mangiare del contadino che stava sotto. Oggi dove lo trovi? Un piatto di pizze e fughi, posso dirti anche dove, vicino Caramanico, lo paghi 25 euro ed è giusto che sia così. È la vendetta del contadino o del pescatore povero nei confronti dell'attuale consumatore. Come si accompagna un buon brodetto? Con che tipo di vino? Io personalmente esclusivamente con un vino rosato. Perché? Perché i profumi del rosato si sposano magnificamente e non vanno a coprire il profumo del pesce. Mentre invece il vino bianco per me non è vino, è una cosa diversa. E il vino rosso soltanto se mi fai un brodetto di quelli in cui mangiamo in quattro, allora ci può stare anche un rosso. Che giornata ha trascorso sulla terrazza dello stabilimento La Playa di Pescara, Tino Di Sipio? Innanzitutto di vedere il mio amico Lem con cui ricordiamo la gioventù. Secondo perché abbiamo un posto come questo che è la Pineta di Pescara, che secondo me è il posto più bello della città di Pescara. Allora si è divertito? Tantissimo. Vasto, Pescara e Giulianova scelte per rappresentare al meglio l'identità di un piatto storico, emblema della marineria italiana, il brodetto. Lo chiediamo a Mimo D'Alessio, vicepresidente vicario dell'Accademia Italiana della Cucina. Scelta giusta da parte degli organizzatori? Beh sì, interessante perché se vogliamo i brodetti abruzzesi in realtà sostanzialmente erano due, quello di Giulianova e quello di Vasto. E poi Pescara aveva un guazzetto che veniva condito con del peperone crusco tagliato a pezzettini, polverizzato perché gli dava un colore, una colorazione simile a quella che può dare il pomodoro. Diciamo che i tempi sono cambiati perché una volta si facevano anche 100-150 kg per andare a mangiare il brodetto a vasto. Oggi il brodetto è difficile che lo si trovi nella lista dei piatti serviti dai ristoranti, ma con la massificazione dei prodotti dell'orto ormai è massificato anche il piatto un po' dappertutto. Però è che ha fatto bene l'organizzazione di questo incontro a cercare di mettere in risalto quali sono le peculiarità dei tre piatti importanti di pesce. In passato è stato un piatto unico a tavola il brodetto. Lo è ancora oggi? Ecco, dicevo poco fa che il brodetto si usa meno rispetto al passato, però è un piatto unico perché non era il pesce importante. Il pesce conferiva al brodetto un sapore particolare. In realtà il piatto era il pane bagnato nell'abbondante liquido brodo che riusciva a soddisfare i parati esigenti delle numerose famiglie di allora che non potevano permettersi i pesci un po' più ricercati, i pesci più pregiati. Qual è la terminologia più azzeccata per così dire? Perché si chiama brodetto, da un'altra parte si chiama guazzetto e poi ancora zuppa di pesce. Come va chiamato questo piatto? Sono cose diverse. Ecco, diciamo così che il brodetto per la sua natura dovrebbe essere la parte brodosa di questo composto di cucina, di questo piatto di cucina che viene cotto in un tegame spesso di coccio. La differenza la possiamo esprimere facendo un paragone con la carne. Quando noi facciamo un brodo la cosa che ci interessa è il brodo, la carne è quasi deteriorata dopo tanto tempo di cottura, si mangia, si mangia ma non ha un sapore deciso interessante. Viceversa quando facciamo il bollito, il bollito è la carne, la polpa che ci interessa. Ecco, nel brodetto quello che interessa è il brodo, nelle zuppe quello che interessa può essere il pesce e il guazzetto in realtà è una forma di brodetto in bianco spesso servito con le patate. Sfumatura a parte, cosa fa la differenza nella preparazione di questo piatto? Allora, la differenza sia nel tipo di pesce che si riesce a trovare che non c'è un elenco ben preciso perché è quello che si trova. Poi la differenza vera la fanno i prodotti dell'orto che sono, per esempio nel vastese, il pomodoro mozzotempo che è un pomodoro dolce che riesce a dare al brodo, qui dal brodetto, un sapore decisamente rotondo e quindi molto molto gustoso. Poi il peperone, il tipo di peperone verde. Ecco, l'olio di oliva che è importantissimo, il tipo di aglio che si usa. Ecco, questi sono quelli che fanno la differenza a questo piatto che a mio parere è un po' mortificato ma dovrebbe essere più supportato dalla ristorazione e più richiesto anche dai clienti. Giovanni Scogna Miglio che rappresenta invece Giulia Nova. Quali sono le caratteristiche del vostro brodetto a Giulia Nova? Allora, a prescindere dal fatto che io non sono giuliese, sono napoletano e vivo in questa terra da nove anni, perciò mi sono innamorato di questa terra. Beh, le caratteristiche prima di tutto di questo tipo di piatto di Giulia Nova è che noi utilizziamo intanto un peperone verde e del pomodoro fresco. In questo caso io ho utilizzato un pera di maturazione giusta di questo periodo per fare questo tipo di piatto. Poi diciamo che a noi piace farlo con quello che ci offre il mare, cioè quelli che sono i prodotti di questo momento noi li utilizziamo. È inutile andare alla ricerca di tante cose che poi non si trovano, mettere quello che si trova. Beh, in questo caso oggi siamo stati fortunati, abbiamo trovato del buon pesce perciò abbiamo fatto un ricco brodetto per fare questo piatto che è molto buono, a meno a quanto mi riguarda. E le difficoltà? Beh, le difficoltà è recepire la materia prima sempre buona, nel senso che quando c'è è sempre un vantaggio per noi perché riusciamo a fare sempre un ottimo piatto. Ecco, non utilizziamo, ecco in questo caso come le dicevo, non utilizziamo concentrati, utilizziamo solo pomodoro fresco. È un brodetto un po' più morbido, più, non con eccessivo pomodoro, a meno perché nel mio modo di vedere il pesce deve avere il suo sapore. Io non amo coprire i sapori veri, nel senso che il pesce deve rilasciare quello che ha di sostanza dentro al guazzetto, non ha bisogno di grossi pomodori concentrati, a meno per questo è la nostra veduta, il nostro modo di vedere. La vostra particolarità. La nostra particolarità. Con cosa accompagnerebbe il brodetto? Con che tipo di vino? Beh, visto che siamo in questa sera con un buon pecorino. Francesca Bozzelli rappresenta Vasto, ristorante San Marco. Allora, vogliamo sapere da lei quali sono le caratteristiche del brodetto bastese? Allora, da noi il brodetto funziona con 10 qualità di pesce che durante l'anno hanno dei periodi che attualmente oggi ho riportato alcuni che lo vediamo nel tegame e altri che verranno più a lungo quest'autunno perché loro hanno diversi posti del mare che non lo vediamo tutti l'anno. E dunque, da quello che ho, nativo di questo brodetto, nato da mio nonno a mio padre, ho visto sempre 10 qualità di pesce che nell'anno andavano mischiando nel brodetto e non abbinarli quasi vicino l'uno per l'altro. E dunque mi hanno lasciato a oggi, in una nuova generazione, questo buon pesce, un buon piatto che ai tempi loro era povero ma per noi oggi è molto ricco di profumo e di qualità e di una cottura che non tutti quanti andiamo a ricercare. E quindi quali sono le difficoltà nella preparazione di questo brodetto? Prima di tutto alzare presto la mattina e andare direttamente nel pescivendolo e vedere subito il pesce che hanno pescato perché ci sono dei orari che a me mi hanno abituato andare molto presto e poi nel ritornare iniziamo nel pranzo che il brodetto viene cotto non più di 10-15 minuti perché il pomodoro non deve essere un ristretto perché in questo periodo d'estate la nonna che ha fatto conoscenza con i pescatori perché si facevano conoscenza i contandini con i pescatori e il pomodoro doveva sentirsi in bocca più fresco e dunque era una cottura più da sentire bel prezzemolo, bel pomodoro e bel peperone, bello raccolto all'orto. Come lo personalizzate questo prodotto nel vostro ristorante? C'è una particolarità? Io veramente ho conosciuto mio marito e loro in questo piatto non l'hanno mai riportato nella loro ristorazione. Poi nel parlare nei lunghi anni di fidanzamenti abbiamo parlato perché io ho cresciuto con mio padre in un trabocco e dove mi ha fatto vedere tante qualità di pesca, di tempo e di cottura e allora mi hanno portato a far provare e da oggi abbiamo il nostro battaglia, un piatto di battaglia perché siamo rimasti pochi vastesi a riportare un piatto tipico rinato dai nostri nonni. Allora, Matteo Luise, Caffè dei Mercanti, rappresenta Pescara. Quali sono le caratteristiche del vostro brodetto, Matteo? Sicuramente la caratteristica principale, il nostro ingrediente principale è il peperone rosso franto, comunemente chiamato ferfellone e con un triplo concentrato di pomodoro andiamo a soffriggere questo pesce per poi allungarlo con del pomodoro fresco rigorosamente fatto in casa. Questa è la nostra caratteristica del brodetto. Quindi questo diversifica dagli altri bordetti? Assolutamente sì. Quali sono le difficoltà tecniche invece di preparazione? Difficoltà tecniche, il pesce pescato del giorno, trovarlo sempre, sempre fresco, pesce da ritaglio, quindi un pesce povero, come usavano i nostri nonni, bisnonni marinai, dove non c'era posto per mettere conserve o bottiglie di pomodoro, quindi si usava solo questo tipo di pesce molto povero e quindi andiamo sempre a mettere pesce, come lo chiamavano loro, da ritaglio, quindi non scampi, non vongole perché si dovevano portare a vendere e quindi mettevano solo questo pesce povero, sì, concentrato di pomodoro. E quindi possiamo chiamarlo piatto simbolo della marineria pescaresa? Assolutamente sì, è un piatto simbolo della marineria pescaresa. Osvaldo Bevilacqua, ospite d'eccezione dell'edizione 2022 di Accendiamo il Medioevo, siamo con il direttore artistico della Rasegna, Licio Di Biase, un viaggio attraverso le tipicità della nostra regione. Come le ha trovate il noto conduttore di Sereno e Variabile? Ma è rimasto molto impressionato dal patrimonio enogastronomico di Catignano e di Pianella, tra cantine e frantoi ha toccato con mano il nostro vero patrimonio enogastronomico del territorio, i vini più pregevoli e gli oli, parliamo di Pianella, siamo nella patria dell'olio. E' un modo per far conoscere a questi nostri amici, giornalisti, il nostro vero territorio, perché solo in questo modo possiamo portare alla valorizzazione di questi nostri prodotti. L'Abruzzo ha bisogno di promuovere i suoi prodotti, allora benvengano personaggi come Osvaldo Bevilacqua a fare da testimonial di queste grandi ricchezze naturali che abbiamo. Noi sfruttiamo proprio questo concetto, accendiamo il Medioevo, quindi luoghi medioevali in cui tenere le nostre manifestazioni per far conoscere tutto ciò che circonda questo Medioevo, fatto appunto di tanti elementi enogastronomici, come in questa circostanza abbiamo detto le cantine e i frantoi. Una giornata intensa, questa mattina a Pescara, poi Catignano, Pianella, ma tutto sommato lei è soddisfatto dell'edizione 2022 della rassegna Accendiamo il Medioevo? La rassegna Accendiamo il Medioevo sta avendo un incredibile successo, questa mattina a Pescara non era accendiamo il Medioevo ma abbiamo, come dire, sfruttato tra virgolette Osvaldo Bevilacqua per fargli conoscere il brodetto della costa abruzzese. Bevilacqua per fargli conoscere il medioevo, come dire, sfruttato tra virgolette osvaldo